Angela Merkel e Narendra Modi si stringono la mano a New Daily nell'ambito dell'incontro bilaterale tra Germania e India. La cancelliera tedesca e il primo ministro indiano hanno firmato 11 patti di collaborazione e 5 dichiarazioni di intenti tra i due paesi. Oltre a diversi membri del governo di Berlino, anche i rappresentanti delle imprese tedesche si sono recati in India. Soddisfatta la cancelliera Merkel. I settori in cui vogliamo lavorare insieme all'India sono l'intelligenza artificiale e la trasformazione digitale. L'India ha davvero un grande potenziale. È stata firmata la cooperazione tra i due paesi anche nei settori della scienza, dell'acqua e dell'agricoltura, dello smaltimento dei rifiuti, della sanità e addirittura del calcio. Nell'anno 2022 l'India festeggerà il 75esimo anno della sua indipendenza, dichiara il premier indiano. Per allora ci siamo posti l'obiettivo di costruire una nuova India. E nello svolgimento di questo compito, l'esperienza di una potenza tecnologica ed economica come la Germania sarà molto utile per le priorità e le esigenze dell'India. Durante l'incontro di New Delhi, Angela Merkel e Narendra Modi hanno visitato il museo e il luogo di cremazione del Mahatma Gandhi. Grazie. Grazie.